carissimi fratelli sorelle pace e bene buongiorno per tutto il giorno oggi celebriamo la seconda domenica di avento meditiamo il vangelo di luca capitolo 3 versetti 1 a 6 nell'anno quindicesimo dell'impero di tiberio tiberio cesare mentre ponzo pilato era governatore della giudea erode tetrarca della galilea e filippo suo fratello tetrarca dell'iturea e della traconitide elisania tetrarca della bilene sotto i suoi sacerdoti anna e caifa la parola di dio venne in su giovanni figlio di zaccaria nel deserto egli percorse tutta la regione del giordano predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati come scritto nel libro degli oracoli del profeta isaia voce di uno che grida nel deserto preparate la via del signore raddrizzate i suoi sentieri ogni burrone sarà riempito ogni monte e ogni colle sarà abbassato le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate ogni uomo vedrà la salvezza di dio parola del signore ecco giovanni grida nel deserto prepariamoci prepariamoci a accogliere colui che verrà a salvarci e questa preparazione si passa per mezzo del battesimo perché giovanni predica un battesimo di conversione allora in questa domenica siamo tutti dunque invitati a ascoltare il grido di giovanni il battista sarebbe l'occasione per noi di vivere diversamente questo tempo di avento è vero ci stiamo preparando per la festa di natale ci stiamo preparando per la liturgia in parrocchia ci stiamo preparando per tante mille cose ma qualche volta dimentichiamo la preparazione personale e individuale allora oggi siamo invitati dunque a interrogarci a ricevere questa questo battesimo di conversione ascoltiamo il grido di giovanni battista sta gridando al cuore tuo ci sta invitando di convertirci di ricevere un battesimo cioè cambiare vita cambiare stile di vita questo cambiamento non soltanto perché c'è natale ma per tutta la nostra vita per tutta la nostra vita e questo cambiamento dovrebbe partire da 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 una profonda interrogazione io in mezzo ai miei colleghi in mezzo alla mia famiglia in mezzo ai miei amici chi sono io come mi comporto sono una luce per loro perché siamo i cristiani non dimentichiamo che siamo luce ma siamo sono luce per loro o una tenebra che sono per loro allora in quel momento si comincia a liberare il nostro cuore che il tempio di dio perché quello figlio che nascerà non nascerà nella culla non nascerà nella mangiatoia ma nascerà nel cuore di ciascuno di noi ma come troverà questo cuore e perciò giovanni sta gridando invitandoci a svuotare proprio questo tempo di dio che il nostro cuore per dare lasciare lo spazio a cristo che viene a questo messia che viene a liberati solo nella conversione profonda sincera che noi vedremo la salvezza di dio è vero da soli non ce la faremo nella prima lettura il profeta baruc ha detto che dio che verrà a spianare tutto cioè dio ci aiuterà a spianare le cose ma che facciamo ascolteremo questo grido o caceremo dio ti vuole integri per accogliere questo suo figlio come ha detto la seconda lettura e lo sappiamo carissimi che dio grida anche tramite i nostri fratelli e le nostre sorelle quante persone si avvicinano da noi per darci un consiglio quante persone volendoci bene e vorrebbero aiutarci e si avvicinano e ti ditti che ci parlano ci consigliano ma che facciamo di questi luoghi di questi consigli che ci danno che ne facciamo o li rigettiamo o li giudichiamo penso chiediamo allo spirito di aprirci l'orecchio per sentire ogni grido che ci invita a una conversione ogni grido che ci invita a cambiare vita perché il cambiamento positivo ti permetterà a rimanere luce del mondo sale della terra ma soprattutto a vivere degnamente le feste di natale che vengono allora vi auguro una buona e santa giornata santa domenica a tutti e che dio vi benedica sempre